La Lavercoup prevede il sorteggio del programma lo stesso giorno in cui i match verranno giocati e quindi in mattinata i capitani hanno fatto le loro scelte, e questo è lo spettacolo al quale assisteremo oggi dalla O2 Arena di Praga. L'attesa per le due star dell'evento è terminata. Non solo vedremo Federer e Nadal in campo in singolare nella sessione diurna, ma a concludere la seconda giornata della manifestazione Roger e Rafa giocheranno finalmente nello stesso lato del campo, nel match più atteso della competizione, contro il duo americano composto da Sam Querrey e Jack Sochi.